Nella meravigliosa regione francese sorgeva un castello maestoso abitato da un uomo di incredibile ricchezza e dai commerci tanto floridi da destare l'invidia degli uomini più noti nella zona. Quest'uomo tuttavia era oggetto di stranezze e pettegolezzi a causa di una caratteristica peculiare che lo rendeva unico e al contempo inquietante. La sua folta e fluente barba era di un colore innaturale, un blu cobalto brillante. Per questo motivo la gente dell'uovo lo aveva battezzato con il soprannome di Barbablu. Nonostante il suo aspetto insolito, Barbablu bramava ardentemente di trovare la sua anima gemella e intraprendere una nuova vita matrimoniale. Così decise di corteggiare le due splendide figlie di una nobile vedova che abitavano in una villa nelle vicinanze. Le sue avance furono gentili e cortesi ma la sua stranezza e le voci che circolavano sui suoi precedenti matrimoni lo resero un pretendente temibile. Tuttavia col passare del tempo Barbablu riuscì a conquistare il cuore della figlia minore della vetova. I giorni trascorsero felicemente e sembrava che la sua eccentricità non fosse un problema. Ma Barbablu aveva un segreto scuro che custodiva gelosamente. Un giorno consegnò alla moglie un anello d'argento intrecciato con numerose chiavi di diverse dimensioni. Le spiegò che aveva fatto di lei la sua regina e che il castello sarebbe stato il suo regno per un mese. La moglie avrebbe potuto aprire qualsiasi porta con le chiavi tranne una piccola porta d'oro situata all'estremità di uno scuro corridoio al pian terreno. La curiosità della moglie cresceva ogni giorno di più fino a diventare irresistibile. Alla fine non riuscì a sopportare più l'insaziabile desiderio di scoprire cosa si celasse dietro una porta proibita. Senza pensarci due volte infilò una delle chiavi nella serratura d'oro e spalancò la porta. Quello che trovò all'interno era oltre ogni immaginazione una stanza ma a illocubre con le pareti screpolate sporche di sangue. Inorridita la moglie vide i corpi mutilati di sei doni. Le mogli precedenti di Barbablu appesi per i piedi e orribilmente dilaniati. Il terrore prese il sopravvento nella sua anima e cercò disperatamente di fuggire dalla stanza maledetta. Tuttavia Barbablu la sorprese e l'afferrò con violenza. Con un brivido di terrore la moglie si rese conto che era finita. Il malvagio marito la rinchiuse nella stanza macabra con l'intenzione di ucciderla come aveva fatto con le sue precedenti mogli. Tuttavia il destino aveva in serbo una diversa sorte per lei. Nel frattempo la sorella maggiore della moglie era rimasta nel castello in attesa del suo ritorno. Quando sentì i tonfi pesanti e implacabili delle scarpe di Barbablu mentre saliva le scale capì che qualcosa di orribile stava accadendo. Fu allora che scorse la piccola testa bionda della sorella sporgersi da una finestra e gridare con tutta la forza delle sue corde vocali. Arrivano i nostri fratelli! Giungono al tuo aiuto! Senza indugiare la sorella scappò dalla finestra e si diresse verso il castello determinata a liberare la moglie. I due fratelli informati della terribile situazione affrettarono il passo verso il castello di Barbablu. Una volta giunti irruppero nella dimora del mostro. Una lotta furiosa scoppiò tra i due fratelli e Barbablu che cercava disperatamente di difendersi. Le spade lampeggiarono nell'aria mentre l'odioso tiranno cercava di preservare il suo oscuro segreto. Alla fine i fratelli prevalsero uccidendo Barbablu e mettendo fine al suo regno di terrore. La moglie finalmente liberata dalla prigione in cui era stata rinchiusa ereditò la sua vasta ricchezza e condusse una vita agiata con un nuovo marito che l'amava sinceramente. Parte della sua fortuna fortunata alla sorella e i suoi fratelli come segno di gratitudine per il loro coraggio e la loro dedizione. Questa storia ci insegna che la curiosità può condurre alla scoperta di verità terribili ma anche che la determinazione e il coraggio possono sconfiggere anche i mostri più spaventosi. La luce della verità può alla fine dissipare le ombre più cupe e la giustizia può trionfare sul male. Ma esiste anche un'altra morale più profonda per questa storia. La fiaba di Barbablu è un monito a non lasciarsi abbagliare dalle facili conquiste. È un invito ad ascoltare il proprio intuito. Le sorelle maggiori infatti, forti della maggiore esperienza di vita, non si lasciarono abbindolare da Barbablu. Non così la minore, la cui ingenuità prevale. Una volta sollevato il velo, però, presa consapevolezza della realtà, per come essa è realmente, la giovane riuscì a salvarsi, riuscendo a richiamare e mettere in azione le sue parti battagliere rappresentate dai personaggi dei fratelli. La protagonista, che era andata incontro alla sua rovina, riuscì però ad ascoltare ad un certo punto l'istinto, contravvenendo al divieto del marito e con furbizia si sottrae alla morte richiamando a sé i fratelli, componenti maschili positive, protettive, combattive, che la salvano. Ecco, se questo video ti è piaciuto, ti invito a condividerlo, metti un like e iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!